chiamate no scusi non ho capito chi è fastweb ah ah si dica lei ha avuto modo di poter fare un confronto con le nostre offerte si ho capito però sono venuti qui con la scalina la scala l'hanno messa al muro hanno preso il filo l'hanno messo ha messo quell'altro lì non si fa così perché poi non è stato fatto il download e ci va male il modem abbiamo fatto anche la segnalazione della team è venuto un omino con una scalina è montata su forse ha invertito i fili perché il bot va indietro scusi se lui mi leva il bot il download poi rimane a 22 22 2 massimo va a 23 ho capito ma io non posso aiutare ma questa è una cosa tecnica eh dicevo voi riuscite poi se noi passiamo a mettere il bot e non le so dire cioè deve parlare con il reparto tecnico di questa cosa ah ho capito perché si però è inutile che loro mi mandano questo mino ha capito è venuto l'omino ha montato sulla scala poi quando è ha tagliato il cavo e mi va e allora dico io perché mandate l'omino se poi è capito lui non ha tutte le competenze perché se il bot si lega al download scala di un mega pic mega capito voi come c'è previsto nel vostro modem il bot penso di sì ma non c'è una cosa tecnica questa la devo farvi contattare dal reparto tecnico ah ma è importante che non mandate anche voi l'omino è perché no no lei ride è una cosa seria perché che è successo che noi scarichiamo i video se entra in passa il 26 parte quando lo prende e va su ha capito perché poi va su no non è che che va giù va sempre su solo che il download va di meno non so se se rendo l'idea secondo me è tutta colpa perché quando io ho fatto la segnalazione è venuto l'omino e ho levato il botto o ci ha messo e ha calato il download ha capito si ho capito voi come potete fare no e devo farla ricontattare dal tecnico le ricordo ho capito allora l'importante che non mi mandate l'omino anche voi perché siamo rovinati vabbè ci riflettiamo magari grazie vabbè prego arrivederci grazie 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 grazie